E ora un'ultima cosa, se Ruth venisse a saperlo o dovesse insospettirsi, non succederà a parola mia, però in caso, nega, 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 per quanto sappia o dica di sapere, nega. Beh, ma se avesse le parole, nega lo stesso, ma se proprio nega, 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 nega. Charlie! Cosa? Che cosa facevi? Dove? Lì? Con quella! Quale? Quella! Come hai potuto! Cosa? Questo! Quando? Quando sono entrata e lei stava... Chi? Lo sai benissimo, qui, che la donna lì! Dove? Charlie! Cosa? Tu e quella donna... Ma quale donna? Quella che è uscita ora! Quando? Ma Charlie! Cosa? Non provi la minima vergogna! Perché? Per quello che... no, ma che è her work! Ehi! Sovra! Che cosa... che vuoi, per cena? Grazie.